è passato crescere un bambino presenta delle sfide enormi è certo di poterle affrontare visto tutto quello che ho realizzato quanto potrà mai essere difficoltoso? volevo chiederti se c'è un senso di responsabilità ulteriore quando ti rivolgi a un pubblico più giovane beh c'è un senso di responsabilità sì, c'è un senso di sfida continua perché comunque devi porti sempre di fronte a tutti ma questo fa parte un po' del ruolo di un attore che quando poi si esibisce e si trova di fronte a un pubblico non dice vorrei pubblico che vada dai 30 anni in su facendo cose sempre molto diversificate tra loro, quindi dall'attore drammatico al comico ho avuto sempre la possibilità di avere un pubblico veramente variegato quindi dai nipotini ai papà, alle mamme, ai nonni, alle zie e agli intellettuali insomma quindi questo è interessante perché siete vestiti d'antichi greci? la prima volta sul palcoscenico quanta paura avevi? la prima volta sul palcoscenico c'era un misto di paura e di fascino perché chiaramente il fascino era straordinario il primo spettacolo che feci era un pirandello il Fumatia Pascal con il protagonista all'epoca Giorgio Albertazzi io cominciavo e ricordo che la paura era grande ma se ne accorsero tutti se ne accorse anche lui che pur essendo io l'ultimo arrivato in quel momento prima dallo spettacolo venne in camerino e mi incoraggiò tantissimo cominciò a dirmi ricordati che anche nel momento in cui entrerei e dirai una sola parola in quel momento tu sei padrone del palcoscenico sei te, dai tutto te stesso, sii sereno insomma mi dette una carica straordinaria la paura c'è e c'è ancora oggi dov'è Penny? antico Egitto hai usato il torno indietro era interessata andiamo Mr. Peppody è un cane laureato ad Harvard con il massimo dei voti c'ha un sacco di master tu che tipo di studente eri? eri un secchione? quali erano le materie dove andavi meglio? quali erano quelle dove andavi peggio? allora andavo meglio sicuramente nelle materie letterarie andavo bene in filosofia non andavo bene in matematica nelle materie scientifiche e per questo decisi di fare il liceo scientifico appunto quindi avevo tre in matematica insomma e quindi talmente mi ero appassionato poi a questo liceo scientifico perché si vede che non avevo capito nulla sulle scelte che avrei dovuto fare dico tu non sei portato per le materie scientifiche e fai lo scientifico bene, ben ti sta volevo appassionarmi talmente tanto che ci rimasi tanti anni al liceo scientifico ah ok c'è anche un aspetto interessante nel film perché c'è un aspetto appunto didattico quindi è importante perché si imparano delle cose George Washington che tipo di albero ha battuto? io 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 George Washington non ha mai battuto un ciliegio è una storia inventata per insegnare ai ragazzi a non mentire il pubblico giovane che seguì Promessi Sposito lo sei ritrovato adesso a supportarti e a seguirti? guarda il pubblico giovane dei Promessi Sposi sì me lo sono ritrovato me lo ritrovo perché mi raccontavano che molti ormai vanno a vedere su YouTube anche i giovani insomma non hanno seguito in diretta forse avranno preso dei DVD eccetera però questi Promessi Sposi venivano proiettati venivano fatti vedere anzi non proiettati erano fatti vedere nelle scuole spesso per cui siccome notoriamente purtroppo per gli studenti i Promessi Sposi erano sempre un po' noiosetti da imparare con i nostri Promessi Sposi con la nostra parodia gli studenti i bambini un po' tutte le età si sono incuriositi un po' e quindi sono andati proprio per curiosità a studiare poi il romanzo popolare Massimo io chiedo sempre qual era il poster che avevi in camera da ragazzino? ma guarda no non so qual era il mio poster perché ne ho cambiati ne cambiavo uno al giorno ma non erano soltanto gli idoli da seguire ma erano anche luoghi dove evadere yuhuuu facciamo solo la prima? proprio questa dovevamo fare la barca dirà bla 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 eccomi qua perbacco yuhuuu